Dinosauri Tanto tempo fa, un grande rettile alato lasciò cadere un uovo, che aveva trovato per caso su un'isola. Qui abitava un gruppo di lemuri. Plio, una lemure, e suo padre Iar vedono l'uovo aprirsi. Lei si affeziona subito al cucciolo, anche se è un dinosauro. Aladar, questo è il suo nome, cresce con i cuccioli del gruppo, finché diventa un dinosauro grandissimo. I lemuri si fidano di lui, tanto che entrano per gioco nella sua bocca. È arrivato il giorno in cui tra i lemuri si formano le coppie. Zini, un amico di Aladar, sale sulle liane con gli altri maschi. Qui, le giovani scelgono il loro compagno. Ma nessuno sceglie Zini. Aladar lo consola, eppure sa bene che anche lui rimarrà solo. Non ci sono altri dinosauri sull'isola. Quella sera Aladar vede qualcosa di strano nel cielo. Una grossa palla di fuoco sta cadendo proprio verso di loro. Un attimo dopo scoppia un terribile incendio. Aladar, inseguito dalle fiamme, scappa portando con sé i suoi amici. Aladar e i lemuri raggiungono a nuoto la terraferma. Il paesaggio che si presenta ai loro occhi è una vasta distesa, arida ed esolata. All'improvviso si trovano in mezzo a una nuvola di sabbia. Sono dei dinosauri in marcia e molti assomigliano ad Aladar. Li comanda Kron, un prepotente. Toglietevi di mezzo, urla subito ai nuovi arrivati. Ma Aladar non gli dà retta e decide di seguirli. E così fa amicizia con Ema e Bailen, degli anziani dinosauri. Il cammino per raggiungere i terreni di cova è molto faticoso. Aladar deve aiutare Ema, spingendola con la testa. Quando il branco arriva a un lago dove i dinosauri speravano di poter bere, scoprono che è asciutto. Aladar trova dell'acqua e avverte il branco. Mentre beve, conosce la sorella di Kron, Nira. E se ne innamora. Anche a Nira piace Aladar e vorrebbe stargli vicino. Ma il branco deve continuare la marcia. Aladar e i suoi amici sono rimasti indietro e per ripararsi dalla pioggia si rifugiano in una grotta. Ma sono inseguiti da due feroci Carnotauri. Mentre fuggono, vedono un raggio di luce che arriva dal fondo della grotta. È l'uscita! Spostando le petre che chiudono il passaggio, Aladar e i suoi compagni si trovano davanti a una meravigliosa valle verde, ricca di piante e di acqua. I terreni di cova, esclama Ema emozionata. Il resto del branco invece è in pericolo. I Carnotauri sono sempre più vicini e la strada è bloccata da una grossa frana. Kron cerca di convincere i dinosauri a scalare la frana. La salvezza è al di là di queste rocce, urla il capobranco impaziente, ma... Aladar li raggiunge. Conosco la strada per arrivare alla valle, seguitemi, grida. Kron urla infuriato. Resteranno con me? In quel momento un Carnotauro attacca il capobranco. Kron cerca di difendersi, ma non c'è più nulla da fare. Come triste Nira. Aladar la consola, accarezzandola dolcemente col muso. Poi il branco raggiunge i terreni di cova. Qualche tempo dopo nasce il cucciolo di Aladar in ira. Che grande emozione! La gioia è tornata per tutti i dinosauri. Fine. 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 Grazie.